Benvenuti a questo talk chiamato frameworkless front-end development, dove parleremo appunto di sviluppo front-end senza framework. Vedremo come farlo, quando e soprattutto perché. Prima di cominciare, una domanda. Quanti di voi sono front-end developer anche part-time? Bene, praticamente tutti, giustamente. A questo tipo di talk mi aspettavo questo tipo di platea. Quindi la domanda che vedete qui è per tutti voi. Perché utilizziamo i framework? Questa è una domanda che vale in qualsiasi tipologia di applicazione, ma la sto facendo soprattutto a un pubblico di front-ender. Perché? Perché è un problema sentito da community front-end oggi. Quella che si chiama javascript fatigue, cioè la difficoltà a stare dietro ai continui cambiamenti nel giro di pochissimi anni o addirittura mesi. In generale i framework si utilizzano per evitare questo antipatter, il not invented ear syndrome. è un nome un po' altisonante, lo trovate anche su Wikipedia, nell'elenco degli antipattern più comuni. Ma in pratica si tratta della paura di reinventare la ruota. Questa è una frase che da programmatori sentiamo dire spesso. Cosa significa reinventare la ruota? Quella che vedete qui dietro è una bici. Ora, partiamo con questa metafora. La bici è il nostro progetto. Noi siamo molto molto bravi a fare il telaio come team di sviluppo, però ci servono le ruote. Quindi manteniamo la metafora della ruota. Quindi decidiamo di prendere da qualcun altro le ruote già fatte e di montare le ruote sul telaio che facciamo noi. Perché? Perché abbiamo paura di ritrovarci in questa situazione. Partiamo per fare una bici, facciamo noi le ruote e a metà strada ci accorgiamo che non siamo in grado di fare le ruote. Abbiamo paura di trovarci in questa situazione. Qui abbiamo una bicicletta a quattro ruote su rotaie, da quello che mi sembra di aver visto. By the way, per trovare questa foto ho cercato bici strane su Google Immagini, se ve lo state chiedendo. E questo è uno delle prime risultate. Quindi usiamo i framework principalmente perché abbiamo paura. Abbiamo paura del fallimento. Abbiamo paura di non essere abbastanza veloci. Abbiamo paura che la nostra applicazione non sia abbastanza performante se non utilizziamo una libreria di terze parti specializzata nel rendering. C'è anche un altro modo di vedere la cosa. Questa situazione che vedete qui alle mie spalle viene da un famoso post sul blog di Uncle Bob. Il post è chiamato Make the magic go away. Qualcosa di simile. Dove ovviamente la magic è il framework. si intende la black magic, cioè si intende il codice che non controllo. Perché il framework fa delle cose per me che io non sto controllando. Perché io non credo che per ogni libreria che installate da NPM conoscete a menadito tutte le righe di codice. Quindi quello è potenzialmente magia nera. Voi mettete dentro cose, vi ritorna il risultato ma non sapete perché. Quello che dice Uncle Bob alla fine del post è quello di utilizzare un framework solo se siete in grado di scriverlo da soli. A quel punto siete abilitati ad utilizzarlo. Io ovviamente non mi sento di sposare in pieno questa tesi, ovviamente è un po' estrema. Ma c'è questa frase alle mie spalle che mi ha colpito molto 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 in profondità. Perché dice una cosa secondo me irreale. Qualsiasi framework che noi utilizziamo in realtà sta dicendo il linguaggio che sto usando o la cosa che sto facendo con quel linguaggio non mi piace. E perché mi ha colpito? Perché in realtà mi sono sentito partecipare di questa cosa. Ho lavorato per anni in Java Enterprise. Quindi utilizzavo tutto l'ambaradan di tecnologie tipo Hibernate, JSF e così via. Ed effettivamente quando nel nostro team abbiamo utilizzato Hibernate che per la cronaca è un ORM che aiuta a fare query multidatabase per farla corta. Io ero molto contento, ma non tanto per le performance o perché il codice sembrava più elegante, ma perché a me faceva schifo fare le query in JDBC. Alla fine il motivo principale che io odiavo è quello che stavo facendo. E Hibernate me ne faceva fare meno. Il punto però è che io adoro JavaScript. Davvero adoro sia il linguaggio, quello che sta diventando tanto con ECMA 6, ECMA 7 e quello che sarà, sia la community, sia tutto il sistema di tooling che stiamo creando. Quindi il punto è ok, appena ho l'occasione voglio provare a non utilizzare nessun tipo di framework. Appena mi capita l'occasione giusta voglio provare a mettere in campo questa opportunità. Perché dico questo? Perché è una cosa a cui io personalmente non avevo proprio mai pensato, cioè di far partire un progetto da zero senza fare neanche NPM install, React, Angular o quello che è. Ma semplicemente vuoto, il progetto vuoto. Ecco l'occasione. Quello è uno screenshot dello Slack aziendale dove un mio collega fa quella domanda che vedete sullo schermo. E cioè, avrei bisogno di fare data binding su un progetto esistente che non era una single page application, quindi non aveva già tutto il set di framework che serviva, ma era un sito web standard. Mi servirebbe del data binding, ma non voglio mettere dentro Angular, React o whatever. Qualcuno ha qualche idea? Allora mi sono proposto. Ho detto, ok, è l'occasione giusta perché viene proprio richiesto che non ci siano altre dipendenze. Ora, prima di continuare la discussione vorrei farvi vedere una demo. Il codice che vedrete è tutto su GitHub. Poi alla fine vi do il link alle slide, così potete scaricare sia le slide che il codice. Allora, questa non è l'applicazione in produzione, ma è un caso molto molto simile. Quello che fa questa applicazione è caricare dei dati da un server. Vedete il loading all'inizio. Carica i dati di 20 giocatori e 4 squadre. Quello che fa questa applicazione è assegnare i giocatori alle squadre. Vedete che io qui posso scegliere la squadra di Cox Battle tra red, green, blu e yellow. Se faccio green vedete che qui il numero è aumentato. Posso cliccare random per mettere le persone a caso nelle squadre oppure posso fare clear per resettare tutto. Inoltre, se una delle squadre va in overflow vedete che diventa rosso. Quindi mi segnala anche gli eventuali errori. Ora, questa applicazione ovviamente è particolarmente stupida. Però, se siete dei front-end developer sapete che questo è proprio il tipo di interazione che ci genera i bug del venerdì pomeriggio. Proprio questo tipo di calcolo qui è il classico esempio di complicanza da front-end, secondo me. Ovviamente l'applicazione in produzione è leggermente più complessa, però per rendere l'idea credo che basta. Allora, guardiamo il codice di questa applicazione. Allora, cominciamo dal package JSON. Un po' per lo show, ma per mostrarvi che dependencies è vuoto. Ovviamente non ho imbrogliato, non ho messo lo dash o angular dentro le dev dependencies per fregarvi. Dentro le dev dependencies ci sono effettivamente le dev dependencies. Quindi qui ho messo fondamentalmente web pack e bubble per poter lavorare in ECMA 6 e gest per i test. Ok? Quindi non abbiamo effettivamente nessun tipo di aiuto da librerie di terze parti. Cominciamo dalla index, il boot del nostro progetto. Allora, importiamo due oggetti che sono i due oggetti cardini dell'applicazione. Il primo è l'observable state e l'altro è la render page. Già questo vi fa capire che abbiamo deciso di splittare completamente business logic, che quindi è il nostro stato osservabile. Questo vi dovrebbe far capire che in realtà il pattern architetturale che abbiamo utilizzato è quella della reactive programming. Ci siamo molto ispirati a MobX per questo progetto. E da tutta parte abbiamo una funzione di rendering che stampa l'intera pagina che vedete. Poi team e players sono semplicemente le chiamate all'API per prendere i dati dei giocatori e delle squadre. Dopodiché che cosa facciamo? Andiamo a creare questa funzione render up. Questa funzione render up prende un oggetto che è lo stato, il nuovo stato dell'applicazione e che cosa fa? Se al primo giro genera la pagina e l'attacca al body, dal secondo giro in avanti sostituisce semplicemente il body con qualcos'altro. Quindi quello che fa questa funzione qui è molto simile, anche se è molto spartano, a quello che fa un framework, ad esempio, come React. Cioè sostituisce sempre tutto totalmente. Qui non c'è virtual DOM, non c'è nessun tipo di ottimizzazione, quindi ovviamente le performance non sono alte, ma per il progetto che avevamo fatto in realtà non era un problema. Dopodiché, come vi dicevo, abbiamo utilizzato il pattern della reactive programming come paradigma. Quindi lo state ha dei change listener. Quindi abbiamo aggiunto un change listener che è un console log, quindi questo non è nient'altro che un debugger. E questo invece che cosa fa? Praticamente a ogni cambiamento di stato, aspetta il prossimo frame con request animation frame e poi chiama la render up. E questo è l'unico collegamento tra la business logic e il rendering. Quindi ogni volta che lo stato cambia, e adesso vediamo come e perché cambia, viene automaticamente invocato un rendering. Ma il rendering non sa niente di come è fatto lo stato e lo stato non sa niente di come è fatto il rendering. Dopodiché invochiamo una semplice funzione di init che fa state start loading, invoca le promise per leggere i dati dal server, dopodiché fa set team, set players e stop loading. L'applicazione è pronta. Cosa c'è dentro observable state? C'è uno stato iniziale che quindi contiene i player, le team, poi una costante che è max player per team che è 5 e poi un loading counter che mi serve per visualizzare la rotella iniziale. Ok, guardate che cosa ritorna alla funzione. Oltre allo stato iniziale che è quello dei listener. Quindi questo è un classico pattern observer. Io ho un add change listener e ogni volta che invoco un setter invoco il listener. Vedete? Quando faccio i team, faccio state.teams uguale a teams e poi chiamo i listener. E questo per tutte le chiamate di cambiamento di stato. Quindi random, clear, start e stop loading. Unica cosa da notare è che quando chiamo i listener, in realtà ne ritorno una copia frizzata. Questo è molto importante perché in questo modo tutta la parte rendering non può modificare direttamente lo stato, ma è obbligato a passare per i nostri setter, che quindi invocano a loro volta un ciclo di render. Ok, quindi questo è il nostro stato. Se poi siete curiosi e andate ad aprire il sorgente Kitab, vi renderete conto che è anche tutto testato, tutto testabile ed è una coverage, adesso per un progetto del genere è una coverage anche bassa, va bene. Ok. Vediamo il render della page. Quindi questo è il nostro primo componente. Vedete? Abbiamo creato il componente page anche senza framework e soprattutto abbiamo poi scelto, come potete vedere dal codice che vedremo fra poco, che non è un web component. Abbiamo scelto, per una serie di motivi che essono da discussione, di non utilizzare web component ma tutte funzioni pure. Quindi questa funzione page che cosa fa? Prende lo stato osservabile e praticamente genera una serie di events che sono degli eventi che poi attaccheremo al DOM che modificano lo stato. Capite già a che cosa servono, basta leggere il nome, on team select change. È l'evento che verrà collegato alla change della select della iesima riga della tabella. Oppure random click e clear click. È il codice che sarà collegato con un event listener ai due pulsanti che vedevate in cima. Dopodiché ritorna la funzione di rendering. Quindi se new state, load encounter, è maggiore di zero, o in realtà qui è diverso da qualsiasi cosa sia false, allora ritorno lo spinner, il pallino che gira. Spinner è una funzione che in realtà ritorna una stringa fissa che è l'icona di font awesome. Dopodiché creo un elemento a partire da una stringa. E questa stringa non è nient'altro che l'import del template. Quindi, tramite una funzioncina abbastanza stupida, prendo una stringa e lo trasformo in un elemento del DOM. Questo è un po' un JSX dei poveri, nel senso molto molto semplice, ma io prendo del template che avrei potuto mettere dentro il JSX e lo trasformo in un oggetto del DOM. Dopodiché cosa faccio? Attacco i click. Vedete, prendo il pulsante random e il pulsante clear e collego il listener che avevo generato prima. Dopodiché guardate qui. Prendo il query selector dell'elemento player list. Perché effettivamente su page c'è un oggetto player list. Quello che abbiamo fatto qui è la creazione di un componente player list. E l'abbiamo fatto semplicemente con del semplice JavaScript. Perché guardate, io qui prendo player list. Poi, per ognuno... poi quello che faccio è prendere quel tag player list e faccio l'append del risultato della funzione player list. Che è un'altra funzione pure. Player list è una funzione che prende il nuovo stato e prende degli eventi dal padre. Vedete, quindi player list non sa che cosa fanno i suoi eventi. Quindi è possibile moccarli e testarli unitariamente. E quello che fa è semplicemente prendere un table come template e una row come template. Che è il template della tabella che vedete. Dopodiché fa lo stesso giro che fa qui. Genera un elemento dom a partire dal template. Prende il t-body. Tira fuori i player e i team dallo state e genera degli oggetti row. Row prende un oggetto player, un oggetto team e genera praticamente la tr. r. In realtà poi c'è anche altro codice che potrei farvi vedere, ma la complessità è questa. Quindi abbiamo una page, che è una funzione pura, che prende altre funzioni pure che sono l'equivalente di componenti. Ok? In realtà quello che avete visto, l'applicazione che avete visto adesso, a livello architetturale, sto parlando del codice, ma di come gli elementi stanno interagendo tra di loro, è perfettamente identica a un'applicazione MobX più React. Ok? Quindi quello che abbiamo messo in piedi con queste, saranno 100 righe di codice, 150, è un'applicazione che è in tutto e per tutto simile a un'applicazione MobX e React. Poi ovviamente non abbiamo le stesse prestazioni, perché non abbiamo le stesse micro-ottimizzazioni che hanno entrambi i framework. Ma l'architettura di base è la stessa. Questa è una cosa molto molto importante. Ok. Che reazioni ci sono state nel team dopo aver messo in produzione questo codice? La prima cosa è stata confusione. Cioè ci siamo sentiti un po' confusi, ok? Nel senso, non c'è magia nera. Come può essere che questa cosa sta funzionando in produzione? Eravamo increduli. Dopodiché siamo diventati sospettosi. Ok, ha funzionato tutto troppo facilmente, deve esserci qualche inghippo da qualche parte. Analizzando bene, ci sono due problematiche in questo tipo di codice che vedete. Il primo è la scalabilità. Perché so che voi adesso state pensando, sì questa cosa funziona perché il progetto è piccolo, ma se io ho 20, 30, 40 pagine in una single page application, scala? Secondo noi sì. Perché proprio per il tipo di architettura che abbiamo scelto, la parte di business logic sarà sempre scollegata dalla parte di rendering. Quindi posso complicarla a piacere e posso complicare a piacere la parte di rendering. E quindi la scalabilità dell'applicazione è abbastanza sottointesa. Su questo non vediamo nessun tipo di problema. Diversamente potremmo avere problemi di performance. Ora, in questa applicazione e anche in quella in produzione c'è un numero di righe finito, perché il numero di giocatori quello è e il numero di squadre quello sarà. Però potrebbe esserci un problema di performance se non ci affidiamo a librerie di rendering. Però il punto è, per l'architettura che abbiamo scelto, noi possiamo sostituire completamente rendering con React, se ne avessimo il bisogno. Oppure, meglio anche, possiamo aggiungere nella render page, che è il punto centrale dell'applicazione, un algoritmo di Virtual DOM, collegato semplicemente a quel nodo. Il resto dell'applicazione non se ne accorge. Capite che quindi anche le performance saranno un problema superabile quando si presenterà il problema, e soprattutto se si presenterà. Bingo! Questa era la nostra espressione finale dopo un po' di analisi di quello che avevamo fatto. Quindi si può fare, effettivamente. È una cosa fattibile, quindi andare con una soluzione frameworkless, totalmente vanilla JavaScript, ma di cui conoscete totalmente, avete totalmente il controllo del codice, è una cosa fattibile. Ora, c'è un po' di distanza tra me e voi, ma riesco a vedere questa espressione in qualcuno di voi. Cioè, voi state pensando che adesso vi sto per vendere, che non utilizzare framework è la panacea di tutti i mali, e che dovreste farlo sempre e qualunque in ogni caso, perché il mondo è migliore se vi riscrivete da zero sempre tutto. Allora, in realtà non è così. Quello che voglio dirvi, però, è che non dovete andare per forza su un approccio di tipo frameworkless, ma l'approccio sano di utilizzo dei framework, soprattutto nel frontend, e poi vi spiegherò perché, è questo. È un approccio difensivo rispetto ai framework. Cosa intendo per difensivo? Cosa significa, secondo voi, difendersi da un framework? Allora, un framework è fondamentalmente una via d'uscita semplice a un problema. Avete problemi di performance? Usate React. Fai virtual DOM a posto vostro. Però, sapete che in un mondo ideale, la cosa migliore sarebbe che voi e il vostro team rischivesse un algoritmo di virtual DOM vostro, che risponde esattamente al vostro problema. Ecco cosa intendo per difendersi. Stare sempre attenti a quale parti del framework sono davvero importanti per il progetto. Faccio subito questo esempio, che è un esempio che utilizzo spesso, che è veramente stupido, ma che aiuta tantissimo a capire cosa intendo. Quello che vedete qui è l'esempio classico che trovate sulla documentazione di Angular 2 sull'utilizzo di una chiamata HTTP. Vedete cosa fa? All'energy on init, scusate, chiama l'oggetto HTTP di Angular e fa una get. Semplice. Quindi voi potreste dirmi qual è il problema. Il problema è questo. Voi avete collegato la vostra business logic al framework. Perché la chiamata HTTP è business logic? È quella parte del progetto che probabilmente non cambierà nel tempo. Perché le chiamate HTTP, adesso questa è una chiamata HTTP stupida, però a volte avete chiamata HTTP a cascata, autenticazione. Quelle sono le parti di codice che sono importanti. E voi l'avete legata mani e piedi a un framework che avete scelto up front prima di affrontare il progetto. perché la prima cosa che si fa è installare Angular 2 o React o quello che è e cominciare a lavorare. E quindi avete già scelto che la vostra business logic sarà legata a questo framework qui. In particolare poi questo framework fa una asserzione molto forte. Le chiamate HTTP non sono promises ma sono observables. Che quindi vengono ancora da un altro framework che è RxJS. Il punto è, voi potete fare la stessa cosa così. Window fetch. E window fetch, se voi lo scrivete in Chrome, esiste. Non avete neanche bisogno di Babel. È standard ECMA 6. Quindi questa cosa qui non cambierà. Quindi se io prendo questo pezzo di codice qua e lo porto all'interno di un altro oggetto JavaScript, staccato da Angular 2, l'applicazione funziona uguale. Ma ho il vantaggio che quel codice lì non dipenderà da Angular 2. E quando Angular 2 diventerà un problema? E lo diventerà. Perché qualsiasi framework utilizzate, se lo utilizzate fra dieci anni è un problema. Come tutti i framework prima di Angular e come tutti i framework dopo Angular. Ed è questo l'atteggiamento difensivo rispetto ai framework. E cioè, i framework sono indispensabili per avere una velocity degna per i nostri progetti. Non possiamo ricominciare a scrivere tutto da zero. È ovvio. Ma quale parti del framework sono quelle che veramente portano valore al progetto e al nostro team? Dollar HTTP di Angular 1 o HTTP client di Angular 2? Probabilmente non lo sono per alcuni tipi di progetti. Il punto è che il framework class non è bianco o nero. Dovete trovare il vostro giusto mix per il problema che state risolvendo. Quindi potrebbe essere che siete qui. Cioè che utilizzate quasi tutto codice vostro, ma per motivi di performance usate React su il rendering. Perché avete bisogno del virtual DOM, perché avete dati in tempo reale. Ma tutto il resto dell'applicazione è scollegata da React. Oppure potreste essere qui. Cioè, ok, ho anche bisogno di altre librerie perché ho bisogno di velocità, ho bisogno di stabilità del codice, ho bisogno di framework, di regole. Oppure perché il nostro team non è in grado di lavorare senza framework. Va anche detto questo. Serve un team adatto per fare questi ragionamenti. Ma non è da escludere neanche l'ipotesi full framework. Prendiamo tutto quello che il framework ci dà. Perché non è da escludere? Perché purtroppo a volte dobbiamo venire, come dire, ai compromessi con quello che abbiamo intorno. Cioè, dobbiamo capire i bisogni di business del nostro cliente. non possiamo prendere decisioni tecniche come quella che avete visto sopra, non tenendo in considerazione tutto questo. E quindi, come fare? Ovviamente questa è una risposta che richiederebbe probabilmente un altro talk dei due ore o un altro workshop, perché è un argomento veramente difficile. Come capire i bisogni di business di un cliente o di un vostro progetto, se magari siete una startup. Ma vi posso lasciare questo semplice esercizio che in Next Strategy facciamo ogni volta che un cliente ci propone una nuova idea. Il progetto sta per partire e quindi noi cosa facciamo? Facciamo quello che si chiama il gioco delle leve. Cioè, chiediamo al nostro cliente, mettimi in ordine queste quattro voci senza pari merito. Qualità, scope, budget e deadline. Capite che un progetto che ha deadline al primo posto e qualità all'ultimo posto non può avere lo stesso stack tecnologico a parità di problema di uno che ha qualità al primo posto e deadline all'ultimo posto. Capite che se la deadline è importante, perché? Perché magari il vostro cliente è una startup e deve andare ad una fiera entro due mesi per prendere un finanziamento da 10 milioni di euro. Non potete dire, ah, lo faccio con l'ultima tecnologia, anzi lo faccio tutto in vanilla JavaScript, perché sicuramente il codice è mantenibile nel tempo. No. Se il principio, la cosa più importante, scusate, è la deadline, dovete usare il framework che conoscete meglio e usarlo tutto il più possibile, perché dovete raggiungere l'obiettivo. Poi quel codice potreste buttarlo via, quando la startup prende i famosi 10 milioni di euro e semmai li prenderà. In pratica, il contesto nel quale lavorate per progetti di questo tipo è tutto. Il contesto nel front end è fondamentale, perché il front end è la prima linea con gli utenti. Quindi deve cambiare, rispondere velocemente a quello che gli utenti chiedono. E se siete in un mercato, come dire, in evoluzione, come quello magari delle startup che stanno validando la propria idea, capire il contesto intorno per fare decisioni tecnologiche è fondamentale. Perché è fondamentale? Perché i framework, come vi ho detto prima, sono scorciatoie. Lo sono sempre. Lo sono by design. Perché la soluzione migliore sarebbe sempre quella di scriversi tutto in casa. Quindi vuol dire che se sono scorciatoie e sono sempre by design, debito tecnico. Perché? Semplice. Voi scrivete un'applicazione oggi con l'ultimo framework disponibile. Fra cinque anni quel framework scompare perché c'è una versione nuova che cambia completamente tutto. E quel codice cosa è diventato? Tutto il codice AngularJS che abbiamo in giro è debito tecnico. Perché se prendete poi una persona nuova, un ragazzo dall'università appena uscito, è probabile che conosca React, Angular2, AngularJS potrebbe non averlo mai visto. E quello è tutto tempo che dovete investire per aver preso una scelta tempo fa. Ma se voi scegliete il progetto giusto, con il cliente giusto e nel momento giusto, in realtà un framework vi dà davvero una grossa mano. E non è più debito tecnico, è un investimento tecnico. Prendete l'esempio della startup di prima. Se aiutate la startup a prendere 10 milioni di euro, avete lavoro assicurato e potete tranquillamente dire al cliente, ok abbiamo lavorato male per aiutarti in quell'obiettivo, adesso lo riscriviamo. Perché magari gli obiettivi sono cambiati, adesso l'obiettivo è la qualità e la manutenibilità del codice. Allora per esempio potete scegliere di fare qualcosa frameworkless, una parte o tutto. Ok, anche qui ho difficoltà a vedere in lontananza causa miopia, ma probabilmente c'è qualcuno così. Cioè, va bene, sì, sono belle parole, ma perché mi dovrebbe interessare? Perché credo che il design emergente sia il modo con cui oggi bisogna scrivere applicazioni front-end, proprio perché sono applicazioni che devono adattarsi in cambiamenti in corsa. Che cos'è il design emergente? Questa è la definizione che trovate sul Tough Words Technology Radar. Ok, in pratica design emergente significa che la mia architettura deve rispondere ai problemi attuali della mia applicazione e non devo pensare a un'architettura per risolvere problemi che potrebbero arrivare in futuro. Che invece è l'errore tipico che fanno tutti gli sviluppatori, soprattutto se come me avete una formazione ingegneristica, siete programmati per pensare a risolvere problemi che non capiteranno. Lo siamo tutti. Il punto è che l'architettura giusta per un software dovrebbe essere definita dalle feature attuali. E quindi anche il framework è una parte dell'architettura e il bisogno del framework dovrebbe emergere dal problema e non sceglielo up front. Come fate a sapere quando fate partire un progetto se è meglio usare Angular 2 o React? E non vale dire perché ne conosco meglio uno. Sto parlando ipoteticamente come se voi conoscesse tutto il mondo front end. Non lo potete fare perché non sapete il vostro progetto che cosa farà fra due anni. È così. Il mondo dell'informatica in due anni cambia completamente. Blockchain, intelligenza artificiale sono tutti contesti che stanno esplodendo e che potrebbero trasformare completamente il nostro software. E quindi a volte abbiamo bisogno e avremo bisogno di costruirci le nostre vuote. Quindi abbandonare i framework per scrivere qualcosa di nostro. Perché è vero che potrebbe capitarci questo, ma questo potrebbe essere quello di cui il cliente ha bisogno in un determinato momento storico. E se noi continuiamo a provare, a sperimentare, a scrivere le nostre vuote, forse potremmo anche scrivere grandi cose tutti insieme. Sono Francesco Strazzullo, sono front end engineer presto X-Strategy e speaker. Grazie, è stato un piacere.